benvenuto nel video di oggi in questo video finalmente andremo a vedere la curva condotta quindi la curva riservata agli sciatori esperti ovvero la massima espressione dello sci italiano in questa sezione dedicata allo sciatore esperto oltre all'introduzione dove abbiamo visto i materiali le piste adatte eccetera eccetera ora andremo a vedere la curva condotta e la curva agonistica quindi la curva sportiva devi sapere che entrambe si basano sugli stessi principi quindi quello che vedremo oggi poi si potrà solo migliorare ed evolvere nel video successivo quello dedicato alla curva sportiva però già quello che vedremo oggi io sono particolarmente felice di fartelo vedere perché è la massima espressione dello sci italiano devi sapere che fondamentalmente nella curva condotta le cose più importanti da ricordarsi sono due ovvero l'appoggio alla lamina dello sci esterno e l'estensione verso la discesa durante la prima parte di curva dove avviene il cambio dello spigolo allora nel video di oggi andremo prima a vedere le tre curve che hanno reso la scuola italiana famosa nel mondo ovvero la curva a corto raggio che è la curva stretta la serpentina che la curva arco medio e la curva ampia ovvero il parallelo queste sono le tre tecniche che hanno reso famosa come dicevamo un attimo fa la scuola dell'uscita italiano perché l'hanno resa famosa perché è riuscendo a dosare nel modo migliore la presa di spigolo ok con la giusta inclinazione e angolazione che daremo alle nostre lamine di conseguenza i nostri sci riusciremo ad effettuare e dare noi il tempismo che preferiamo per riuscire a realizzare delle curve strette piuttosto che delle curve medie piuttosto che delle curve ampie dicevamo che le cose più importanti sono due quindi capire bene gli appoggi sugli spigoli perché adesso a differenza delle tecniche imparate in precedenza dove era il nostro piede che ruotando ci permetteva di effettuare la curva adesso non è più il nostro piede che ruota ma il nostro piede si inclina infatti non si parla più di guida dello sci ma si parla di pilotaggio dello sci perché il piede non ruota più ma si inclina solo da un lato all'altro lato quindi non ci sarà più la rotazione infatti da adesso parleremo di pilotaggio questo cosa comporta direttamente comporta che le velocità aumentano quindi prima di andare a vedere le tre tipologie di curva voglio darti una piccola premessa sulla sicurezza ovvero adesso le velocità aumenteranno quindi è molto importante per la tua incolumità e per l'incolumità delle altre persone in pista che tu faccia questi esercizi che vedrai in questo video nelle condizioni ottimali le condizioni ottimali quali sono innanzitutto il casco anche se sei un adulto e per legge non è ancora obbligatorio il casco ma lo sarà presto mi auguro io ti consiglio vivamente di indossare sempre il casco perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo cadere è una cosa che devi mettere in preventivo quindi avere il casco lo devi avere per forza ok se vuoi ascoltare il mio consiglio e mi auguro di sì indossa sempre il casco e prima di iniziare a fare questi esercizi che ti presenterò in questo video assicurati sempre che la pista di fronte a te sia libera ovvero non metterti il 27 di dicembre a provare gli esercizi sulla curva condotta quando le piste sono super affollate e piene di gente perché corri il rischio di andare addosso a qualcuno e a quelle velocità rischi di fare male a te e di fare male alla persona a cui ti vai a scontrare immagina se dovesse essere un bambino se tu sei un adulto che sta ascoltando questo video immagina e magari sei un adulto maschio che pesa 80 90 kg immagina se tu vai a scontrarti contro un bambino gli puoi fare veramente male quindi evitiamo e limitiamo al massimo questi rischi e quindi prima di andare a vedere qual è la curva condotta che impareremo in questo video voglio darti queste due premesse ovvero casco sempre in testa e allacciato e soprattutto quando proverai le prime volte questi esercizi prima di rendere l'automatica e un'abilità tecnica presa uno schema motorio assimilato prima che la curva di vasi diventi questo quindi nel momento in cui starai facendo gli esercizi per farli assicurati che la pista non sia affollata ora ti voglio far vedere le tre tecniche dello sci italiano quindi il corto raggio la serpentina e il parallelo dove nel corto raggio te lo lascio vedere nella serpentina te la spiegherò come da testo e poi la rivedremo una seconda volta concentrandoci su quelle due cose che sono le cose più importanti per riuscire ad effettuare la curva condotta ovvero l'appoggio dello sci esterno e l'estensione verso la massima pendenza per riuscire ad effettuare il cambio degli spigoli nel migliore di modi ma adesso lo andremo a vedere e poi ti farò vedere anche il parallelo quindi quella curva ampia dove te la lascerò vedere e basta una volta visto questo andremo poi in pista ti presenterò prima di tutto quali sono gli esercizi che servono per arrivare ad imparare questa abilità tecnica e poi come al solito andremo in pista a vederli con i nostri occhi quindi gli esercizi presentati in questa prima parte li andremo poi a rivedere in pista guardando anche me che eseguo quegli esercizi in pista in modo tale che tu possa avere anche un modello sul quale basarti ora andiamo subito in pista e andiamo a vedere il corto raggio telecomando e via corto raggio abbiamo detto che è una curva ad arco stretto infatti vedi come sono dinamico e rapido nel cambiare gli spigoli e soprattutto come il mio busto rimane ben fermo in avanti e ora andremo a vedere la serpentina prima te la spiego da testo quindi dalla curva precedente diminuendo l'angolazione e con l'appoggio del bastoncino vado ad effettuare il cambio degli spigoli indirizzando gli sci nella traiettoria di curva ricercando nella deformazione mantenendo la perpendicolarità con il pendio proseguo poi l'attività di conduzione controllando muscolarmente le inerzie verticali e l'angolazione fino alla chiusura della curva il busto e le braccia collaborano al mantenimento della centralità e all'ottimizzazione del carico ora la metto un attimo in pausa e torno indietro per fartela vedere un attimo in modo ancora più chiaro ok ora rivediamola dall'inizio un attimo questa serpentina e concentriamoci proprio in queste due cose sull'appoggio della lamina dello sci esterno all'estensione verso la massima pendenza per ricercare subito l'appoggio della tibia sulla linguetta del mio scarpone ok quindi la tibia si deve appoggiare alla linguetta dello scarpone nel momento in cui ho la tibia appoggiata allo scarpone inizio l'inversione degli spigoli e sento già l'appoggio della lamina dello sci sinistro perché adesso noi andremo a vedere la curva verso destra quindi nella prima parte di curva avrò tutto il mio peso appoggiato sulla mia sul mio spigolo dello sci destro ok quando decido di appoggiare il bastoncino e di iniziare la curva quindi indirizzerò gli sci nella prima parte di curva in quel momento in cui arriverò con gli sci piatti da lì e siamo ancora nella prima parte di curva devo cercare subito l'appoggio dello sci esterno che sarà poi esterno quindi lo sci sinistro e cercare subito con l'alluce del mio piede proprio schiacciando sull'alluce del mio piede sentire già lo spigolo che fa presa sulla neve che mi permette poi di rimanerci appoggiato e sfruttando la sciancratura e la deformazione del mio sci vado ad appoggiarmi su di esso ed effettuare la curva andiamola a vedere nel dettaglio lo vediamo anche a rallenti allora questa nella prima parte ok te lo metto proprio a rallenti lento lento da quando c'è l'appoggio quindi da qui ok adesso tutto il mio peso è sulla gamba destra ok sto preparando il bastoncino il bastoncino mi indicherà la direzione in cui mi devo estendere e allungare ok andiamo a vedere appoggio il bastoncino ora mi sto allungando adesso che sono verticale ho entrambi i pesi sulla gamba destra e sulla gamba sinistra adesso invece che ho già la mia tibia appoggiata sulla sinistra inizio a inclinarmi verso destra ma già tutto il mio peso deve essere sulla gamba sinistra in questo momento mettiamo un attimo stop in questo momento devo già sentire che il mio che il mio sci sta incidendo sulla neve e rimanendoci appoggiato sfruttando appunto la sciancratura dello sci e la sua deformazione ok mi permetterà di curvare semplicemente tenendo i piedi inclinati quindi pilotando gli sci senza dover ruotare il piede ok quindi prima parte di curva sono sulla gamba destra appoggio il bastoncino mi allungo verso la direzione di curva cerco già l'appoggio sulla gamba sinistra adesso che sono agganciato con la lamina sulla neve quindi lo sci farà la curva da solo in base al raggio che ha lo sci stesso devo solo fare una cosa cercare di resistere con la mia gamba senza cedere quindi con l'articolazione del ginocchio e con l'articolazione della caviglia non devo cedere in nessun modo ma devo cercare di resistere quindi con la muscolatura eccentrica che abbiamo visto nell'introduzione resistere alle forze verticali che mi spingeranno verso lo sci per permettere allo sci di deformarsi quindi se questo è lo sci ok quando sarà in curva questo sci si piegherà quindi al centro qui si formerà un arco no tipo quando tendi la freccia no di un arco vero e proprio questo questo sci si deformerà e appoggiandosi sulla neve mi permetterà di fare la curva ma se io cedo con la gamba questa deformazione non avverrà quindi devo cercare di resistere resisto e lo sci effettuerà la curva per me sfruttando la sciancratura rimango appoggiato sulla gamba sinistra la gamba interna invece quasi tutto il mio peso sarà sulla gamba sinistra sulla gamba interna invece è semplicemente appoggiata alla neve a pochissimo del mio peso la distribuzione sarà un 80 per cento sulla gamba esterna un 20 per cento solamente nella gamba interna poi faremo anche tutta una serie di esercizi conosci solo con lo sci interno sollevato che ti permetterà di capire molto bene questa cosa andiamo avanti quindi finiamo di vederci la serpentina vedi come c'è stata quell'estensione verso avanti molto importante queste due cose appoggio dello sci esterno estensione in avanti appoggio sinistro estensione destro estensione si vede ancora meglio adesso nel parallelo andiamola a vedere il parallelo è quella tecnica che ci permette di fare le curve ad arco ampio ok appoggio sul piede destro estensione in avanti cerco subito la presa di spigolo del sinistro ora il destro estensione in avanti e sinistro ok aspettiamo che finisca la sciata benissimo ok quindi ora che abbiamo visto la curva condotta come viene fatta e che tipologia di curve possiamo fare con questa tecnica ok andremo a vedere gli esercizi che ci serviranno ad arrivare ad acquisire questa abilità gli esercizi sono sempre divisi tra rotazione intorno all'asse longitudinale andremo a vedere poi gli esercizi riferito all'asse delle spalle quindi all'inclinazione del mio corpo e poi andremo a vedere sempre gli esercizi dell'equilibrio antero posteriore ok allora andiamo a vedere gli esercizi che ci serviranno a capire come ruotare il nostro busto nel modo migliore innanzitutto devi sapere che il nostro busto si comporta in modo diverso in base all'arco di curva che sto facendo ovvero nell'arco di curva stretto quindi nel corto raggio il mio busto rimane fermo immobile in avanti senza mai muoversi ovvero i piedi ruoteranno quindi tutti gli arti inferiore ruoteranno di 180 gradi una volta a destra una volta a sinistra ma il mio busto rimarrà sempre bloccato in questa direzione verso valle non si muoverà mai in questo senso mentre invece quando faremo la serpentina il mio busto comunque sarà ruotato di 30 gradi ok sempre con l'asse sagittale sulla punta dello sci esterno tornerò sulla massima pendenza che sono perpendicolare fondamentale per poi ritornare sempre con l'asse rivolto sulla punta dello sci esterno e stessa cosa anche per il parallelo quindi innanzitutto la prima cosa importante sulla rotazione intorno all'asse longitudinale ricordati che sulla serpentina e sul parallelo il busto segue la punta dello sci esterno mentre nel corto raggio il busto rimane fermo immobile bloccato verso la massima pendenza per capire bene questi esercizi faremo lo slittamento sulla massima pendenza con rotazione del busto verso valle quindi massima pendenza gli scivolano su di essa e col mio busto farò proprio questo movimento per sbloccare proprio a livello della vita i miei movimenti qua nel bacino e questo ci servirà molto per il corto raggio quindi la curva ad arco stretto faremo le rotazioni slide sulla pista ripida questo fantastico esercizio molto difficile però l'esercizio fondamentale per capire bene come ruotando si cambiano e si trasferiscono i carichi del mio peso tra la gamba destra e la gamba sinistra se tu riuscirai a fare questo esercizio qui che è abbastanza complicato non te lo nascondo ma poi andremo a vedere in pista quando capirai bene come traslare e può spostare il nostro peso tra una gamba e l'altra questo ti tornerà strautile poi per riuscire ad effettuare una curva condotta come come dio comanda si dice no qui in veneto non so se anche da le tue parti come una curva condotta fatta per bene ok poi oltre a questo dobbiamo fare il corto raggio con i bastoncini fermi in avanti appunto il discorso che facevamo prima per aiutarci impugneremo i bastoncini davanti a noi li terremo sempre avanti e con la nostra visione periferica degli occhi periferica degli occhi dobbiamo riuscire a vedere sempre la mia mano sinistra e sempre la mia mano destra quindi bloccata in avanti i miei piedi girano ma il mio busto le mie spalle qui devo essere come un pezzo di marmo fermo immobile in avanti ok andiamo ora a vedere invece gli esercizi destinati a migliorare la nostra inclinazione quindi dell'asse delle spalle e faremo i primi cinque esercizi dove ci concentriamo sulla diagonale perché perché proprio dalla diagonale che inizieremo a percepire cosa succede sotto i nostri sci quando metto gli sci sullo spigolo inclinando i miei piedi senza ruotarli sempre dimentica la rotazione che vedevamo nel corso per intermedio nel corso da spazzarne vista addirittura quindi i piedi adesso non si non ruotano più ma si inclinano e basta per capire bene cosa succede sotto i nostri piedi ci usufruiremo delle diagonali quindi utilizzeremo le diagonali per comprendere al meglio cosa accade sotto i nostri piedi la prima diagonale che dobbiamo cercare di fare la diagonale rettilinea per riuscire a fare la diagonale rettilinea quindi mi prendo un punto di riferimento in diagonale di fronte a me cerco di raggiungerlo devo essere bravissimo e sensibile col mio piede di correggere la traiettoria finché raggiungerò quel punto perché perché se rimango appoggiato sullo spigolo lo sci tenderà a portarmi verso la salita quindi quando sentirò lo sci che mi sta portando all'insù devo correggere il piede metterlo piatto per ritornare in direzione del punto che ho preso di fronte a me per poi rimetterlo sullo spigolo sentire che salgo rimetterlo piatto ritornare dritto questo esercizio con queste continue variazioni di angolazione sotto i nostri piedi ci permetterà di aumentare la nostra sensibilità poi una volta messo da parte questo faremo la diagonale vera e propria rimanendo sempre appoggiato sullo spigolo quindi adesso dovrò farmi trasportare dallo sci verso monte quindi mi da una bella spinta metto lo sci in sullo spigolo quindi piegando i miei piedi e le mie ginocchia verso la montagna e in contemporanea col mio busto verso la valle perché perché il mio baricentro deve sempre cadere all'interno dei piedi ricordatelo sempre questo quindi non ti piegare come una candela con tutto il corpo verso la montagna ma qui sul bacino che il nostro bacino con tutti gli esercizi fatti fino adesso è molto mobile riusciremo a piegare le nostre spalle immaginando sempre la pallina di gomma qui sul fianco sinistro in questo caso perché sto andando di là le ginocchia le mie caviglie e i miei arti inferiori si piegheranno si inclineranno verso la montagna e di conseguenza anche i miei sci andranno sullo spigolo e il mio equilibrio sarà mantenuto tale dal mio piegarmi di lato qui sul livello del fianco ok e faremo la diagonale appoggiandomi allo sci esterno e vedo che vado verso l'alto poi partirò a 45 gradi stesso discorso vado in inclinazione in angolazione mi appoggio allo sci esterno e sento che lo sci mi porta verso la montagna stessa cosa partendo dalla massima pendenza mi do una bella spinta verso la massima pendenza inizio ad inclinare i miei piedi verso destra se voglio andare a destra verso sinistra se voglio andare a sinistra mi bilancerò col mio busto schiacciando la pallina di gomma come dicevamo noi e sento di nuovo che lo sci mi fa fare la seconda parte di curva per poi andare a fare la diagonale scusami la curva condotta dalla diagonale verso vale quindi partendo dalla diagonale ci mettiamo anche la prima parte di curva quindi con l'estensione verso la direzione del bastoncino quindi verso la discesa in quel momento i miei sci cambierò lo spigolo dello sci cercherò subito di sentire l'appoggio sulla gamba a monte nella prima parte di curva rimango appoggiato resistendo con la mia muscolatura senza cedere su di esso e rimango appoggiato su di esso fino a riuscire a condurre completamente una curva senza sbandare o senza ruotare i piedi ma semplicemente inclinandomi e rimanendoci appoggiato andrò a effettuare la mia prima curva condotta quella sarà una grandissima soddisfazione perché proverai delle emozioni mai provate prima cioè tutto quello che hai provato tutte le sensazioni e emozioni che hai provato nel sul sugli sci fino adesso verranno rivoluzionate e proverai delle sensazioni veramente fighissime e fighissime veramente belle quindi non vedo l'ora che le proverai anche tu e in questo momento riusciremo a fare la nostra prima curva e le proverai quindi mi piacerebbe essere insieme a te in quel momento una volta fatte le nostre cinque diagonali andiamo a fare l'esercizio con i bastoncini posizionati dietro la schiena e paralleli al terreno per capire insomma per focalizzarsi sugli assi delle nostre spalle bacino ginocchia che devono sempre essere paralleli alla pista tenendo i bastoncini qua dietro in questo modo avremo una percezione più chiara di quello che succederà durante le nostre curve e poi vediamo la pagina successiva quali sono gli altri esercizi faremo i bastoncini nella mano verso valle con cambio sulla massima pendenza questo ci aiuterà anche molto a coordinarci nel modo migliore quindi terremo sempre il bastoncino verso valle nel cambio dello spigolo faremo passare dietro la nostra schiena per riportare il bastoncino verso valle molto bello questo esercizio utile difficile ma molto molto utile poi voglio farti rivedere il corto raggio con i bastoncini paralleli davanti al busto perché lì ti darò una chicca un consiglio che personalmente mi ha rivoluzionata la sciata quindi l'istruttore che me l'ho detto a me un bel po di anni fa mi rivoluzionò proprio la mia sciata quindi lo voglio condividere te con te e dirlo anche a te questo segreto che è un segreto che vale un milione di dollari ok quindi sono molto orgoglioso di dartelo poi faremo degli esercizi senza bastoncini sempre per la coordinazione e per migliorare la nostra stabilità sopra le nostre sci il nostro assetto ok faremo il corto raggio con uno sci solo per capire bene l'inclinazione che devo avere nella prima parte di curva per poter indirizzare lo sci nella curva successiva faremo anche il parallelo con uno sci e il parallelo con uno sci alzato andiamo avanti andiamo a vedere invece gli esercizi che ci saranno utili per migliorare il nostro equilibrio antero posteriore e faremo la curva condotta con gli scarponi aperti per scarponi aperti non intendo dire così non intendo dire così ma intendo dire agganciati e semplicemente con il gancio sollevato sollevato quindi così intendo dire scarponi aperti non aperti in questo senso altrimenti rischiamo di andarci a spaccare le caviglie quindi prima me li chiudo normalmente ok e poi li apro con scarponi aperti intendo dire così con il gancio sollevato ok si vede ok poi faremo la serpentina sciando all'indietro e anche lì mi dovrò coordinare perché sciando indietro devo sempre guardare dove vado e soprattutto quando cambio lo spigolo deve essere bravo a coordinarmi a cambiare il peso quindi a passare il peso tra una gamba gamba destra quando vado in là quando invece mi giro in questo modo qua so che devo passare il peso dall'altra parte e mi sarà utile anche per trasferire i pesi tra un piede dell'altro e poi infine impareremo a fare la posizione a uovo ovvero quella posizione che ti sarà utile ad esempio quando ti troverai nei lunghi piani magari tra per raggiungere una seggiovia tra una seggiovia e l'altra ci sono questi lunghi passaggi in piano che se ci arrivi ad una velocità ridotta devi spingere un sacco con le tue mani con i tuoi bastoncini ti stanchi se invece partendo dalla discesa quindi da quando sei ancora sulla pista ti metti in una posizione uovo prendi la giusta velocità perché sei in una posizione molto più aerodinamica e quindi se stai in piedi tutta l'aria ti arriva sulla giacca e rallenti se ti metti in una posizione accovacciata e si chiama posizione uovo perché ricorda proprio un uovo un ovetto lì sarai molto più aerodinamico e riuscirai ad andare più veloce quindi magari quando arriverai in quei piani a fondo valle a fondo della pista spingerai meno e ti affatticherai di meno quindi andremo a imparare anche questa bene una volta visto tutte queste cose non ci resta che ad andare in pista e andarle a vedere con i nostri occhi per capire bene quali sono gli esercizi che ci serviranno ad imparare la nostra curva condotta andiamo in pista grazie 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 grazie